In diretta dal Riano Athletic Center per la 29esima giornata dei Serie D Girone F tra Roma City e Sintia Albalonga è tutto pronto per il primo possesso palla, stiamo aspettando il fischio del direttore di gara Marco Mirabella della sezione di Acireale è cominciato adesso l'incontro con il primo possesso palla, subito perso dal Sintia Albalonga, può girare quindi il Roma City Pietro Antonio prova la giocata di prima ma viene fermato Re allora prova ad incunearsi al centro dalla fascia destra, pallone per Raffini, sponda all'indietro per Matteucci, può aprire sulla destra è libero Franco che riceve ora il pallone il cross di Franco direttamente verso la porta, colpisce la parte alta della traversa chiama lo schema Pietro Antonio pronto ad effettuare la battuta di questo primo calcio d'angolo cross al centro dell'area, finisce a terra un giocatore del Sintia Albalonga poi Giacobbe prova la conclusione da fuori fino a qui tantissime occasioni da segnalare sicuramente la traversa colpita da Franco con un tiro cross che stava per beffare Vilardi complice anche il vento che oggi soffia forte Ariano Athletic Center buona la giocata qui di Rea che salta il diretto avversario ancora Rea può andare al cross in mezzo la chiusura provvidenziale di Fontana parte Borrelli Opara chiama l'uscita allontana con i pugni in calcio d'angolo Maccari ora può portare questo pallone ha un po' di spazio davanti a sé prova a prenderselo alla centrale che diventa ora buona attenzione all'iniziativa del Sintia Albalonga libero sulla sinistra Pietro Antonio rientra ora Rea Pietro Antonio prova la conclusione Sbardella ora ha un po' di spazio Borrelli prova a cercare il cambio gioco Rea capisce tutto e anticipa buona la chiusura pallone che però resta lì e diventa buono per Cappai il cross sul secondo palo colpo di testa di Secli decide di servire la corsa di Ricci che poi gira con calma il pallone Matteucci si avvicina può provare anche il tiro Matteucci ci prova risultato come detto ancora fermo sullo 0 a 0 Redondi in profondità per Secli posizione regolare secondo il guardaline Secli si avvicina dentro l'area è ottimo l'intervento di Opara in uscita prima vera occasione da gol cross in mezzo corto pallone che passa colpo di testa parata di Opara che tiene a galla i suoi e poi la conclusione di Borrelli che mette fino a questo primo tempo tutto pronto per il secondo tempo primo possesso che verrà gestito questa volta proprio dal Roma City è Zammarchi a mettere in gioco il pallone è uscito poi il Cinzia al balonga con il passare dei minuti calcio di punizione intanto che viene imbattuto dentro l'area pallone che passa che resta lì la girata e la palla sul palo sbardella pallone non semplice da gestire da Maccarica alla fine perde il controllo della sfera Rasi Raffini di prima attenzione Zammarchi ha un po' di spazio per girarsi la porta sul destro poi sterza sinistro Zammarchi strozza la conclusione non c'è molto movimento rimessa in gioco a cercare Zammarchi pressato da due avversari Zammarchi prova a servire ci riesce Rasi pallone all'indietro frulla può andare alla conclusione ci prova tentativo dal limite dell'area prova a spazzare ma chiude bene Maccari K.I sinistro a cercare Sivilla pallone dentro l'area Sivilla può controllare attenzione ancora il 20 fermato pallone largo sulla sinistra per Ricci Ricci per Rea sale in sovrapposizione il terzino sinistro Rea va invece centralmente da Raffini che ha un po' di spazio Raffini per Moreo Moreo può andare alla conclusione la prova palla che esce di poco ed è stata anche deviata calcio d'angolo per il Roma City buono e Pietrantonio sul punto di battuta numero 6 che lascia l'incarico al capitano che va con il destro pallone sul secondo pallo che resta in gioco Ferrante allontana poi ancora Cappai a rimettere in mezzo Ricci di testa arriva sul pallone il numero 5 che la gira da Pietrantonio tutto regolare Pietrantonio può calciare colpisce male il pallone strozza la conclusione sale Borrelli palla al piede cambio gioco dalle parti di Maccari il cross di Maccari Opara non si fida della presa decide allora di smanacciare è arbitro che da quanto segnalato sembra aver dato un ulteriore minuto visto che non si è giocato praticamente negli ultimi 60 secondi l'invio di Pilardi dalle parti del Canuto chiamata a tenere palla sul pressing di Mancino ancora del Canuto che rischia di perderla la perde infatti Moreo prova ad incunearsi in aria l'appoggio per Napoleoni la conclusione di Napoleoni centrale e finisce qui il match al Riano Athletic Center 0 a 0 tra Roma City e Cinzia Albalonga reti inviolate grazie